Musica Donna Donna Solo, solo Guarda, guarda 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 la mia fascia tutta 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 ancora si 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 vai in po' andrea proponi andrea si 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 va bene 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 capri al centro campo capri ho preso 10 dai 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 la mia famiglia e Maschi s'era il la rosso capi quindi come mai Lwill Velour l'undice è tuo Sì, 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 sì.